Diciamo un lastro un momento Pensavate fosse finito ma non è così Devo pubblicizzare una cosa per i cani Il 29 maggio, quindi questa domenica aprirà la spiaggia dei cani sotto a Ponte Milvio dove i padroni potranno prendere il sole sulla spiaggia con le sdraie e i cani potranno fare il bagno dentro la piscina quella grande per i cani grandi di 30-50 cm e invece sarà anche la piscina per i cihuahua di 5 cm, così non affogano e ci sarà un bar dove potrete mangiare, fare l'aperitivo una discoteca e il luogo per i bambini quindi venite a trovarci, vi raccomando che vi aspettiamo cani e padroni Grazie Ciao